Ciao ragazzi, oggi vi dobbiamo parlare di questa... ci hanno feicata, no? Praticamente siamo andati al mercatino di Sicilia, perché noi siamo in Sicilia, e ci aveva detto, un euro due pacchetti, e noi li abbiamo presi pensando che erano Pokémon veri, ma in verità, tutte carte false, guardate, cioè, non grattano neanche. Girale, girale, girale. Ok, adesso non possiamo ancora rivenderle, perché il mercato sarà finito, ma l'apriremo insieme. Quindi spacchettamento di carte false, per il cinquantesimo video vi faremo vedere le carte fake, ok? Ci sembrava strano perché non c'era il codice, e non c'era il codice, e ci siamo fatti feicare. Infatti manca pure la carta per fare i giochi. Queste sono le carte forti. Allora, troviamo subito un Pike a V originale. No, originale. Fake. Poi abbiamo questo. Le ultime indicate. Mi sembra lì un'altra V. E Onion a Fake. Onion. Però c'è... Olè! Guardate. Un Tonkis e un Desi Dwight. Tarocco, tarocco originale. Adesso apriremo questo. Fregati come poli. Allora, mettiamo le carte che abbiamo trovato. Mi sembrava già dall'apertura che era falsa, eh. Ma noi, dato che il pacchetto... Scusa, non sembra un pacchetto. Sì, esternamente sembrava vero. Mi raccomando, non fatevi infinocchiare. Mi raccomando, non andate più al mercato della Sicilia. Perché ti spendono come poli. Abbiamo pagato 3 euro. Vabbè, 3 euro poche. Visto, non c'è la colla. Ah, c'è pure la colla. Fantastica. Aspetta, che facciamo... Ah, spogliato, spogliato. No! Il trick. Il trick fake. Allora, vediamo. Questa è la... Poi vediamo. Cioè, da dietro sono proprio fatte malissimo. Allora, mettiamo questa. Malissimo di dietro. Proviamo così. Dai. Abbiamo un Gallade. Falso. Una Rampardors. Falso. Un Bronzor. Falso. Un Darkai Biastro. Falso. Non brilla neanche. Poi un Golduck. Falso. Un Tription di Ursui. Falso. Un Frosmos. Falso. Salirex. Cavaliere Speziale. Falso. Mew Falso. E Articuno di Garza. Falso. Falsissimo. Vai, vai. Apriamo un altro pacchetto. Ci hanno fregato di brutto, ma... Ci hanno fregato 3 euro. Abbiamo buttato via 3 euro. E quello lì se la rideva. Sì. Tutti pensavamo... Sì, sì, sì. Ecco perché non le comprava nessuno. Una signora ci ha chiesto... Ma possiamo fare un regalo per il mio nipote? Sì, le carte false poche. Allora... 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 Che è uguale poi... Se troviamo qualcuno... Speriamo di regalarle. Allora, queste due sembrano... Con i bordini di pescoio forse sono quelle. Vediamo chi troviamo. Gira, gira, gira. Allora... Un garchomp... Vediamo se è doppio. Il garchomp vi... No... Ed è doppio! Doppio! Sai cosa si fa? Questo... Togliamo le queste che sono brutte. Questo si tiene. Questo... Via! No! Questo qui lo possiamo... Se qualcuno lo vuole... Le regaliamo. Onion, com'è? Questo via. Questo onion... L'abbiamo già, sì! Via! Falto! Poi abbiamo un combi... Team Shot... Ce l'abbiamo già! Ma il pacchetto è uguale! Via! È uguale di Anticom. È lucente... Ce l'abbiamo. È tutto uguale, è completamente uguale. Mister Mind! Mister Mind uguale! Questo... Vediamo che non sono carte... Oh! Un Bolt! Al contrario oltretutto! Un Bolt è al contrario! Un Bolt è nuovo! Mi! Due via sto... Gold fake! Però ce l'abbiamo! Io apro questo qui che mi sembra il più pesantino. E poi aprirete questo qui. Ok. Poi apriremo l'ultimo. E vi diremo... Vediamo quante carte nuove abbiamo trovato e quante fake abbiamo trovato. Se volete scriveteci nei commenti chi vuole le carte false. Tanto noi... Ehm... Noi non ce ne facciamo niente. Vediamo. Questi... Questo c'è il bordino. Allora, vediamo... Oh, via! Doppione! Che bella! E allora come si fa? Via! Lanciamo! Poi... È l'allucente ancora. Triplo! Via! Mister Mind uguale! Via! Arcanine! Mi te che io questi me li ricordo di Demon. Quest'Emming ce l'abbiamo. Via! Questo ce l'abbiamo. Oh, bella Fabia! È un Mewtwo via! Sto... Bellissimo! Puro fake! Ultimo pezzo. L'ultimo fake che secondo me sarà... Cioè, guardate! Sarà uguale anche questa. Queste qui sono tutte le carte false che abbiamo trovato. Praticamente un pacchetto. Un pacchetto. L'abbiamo doppio. Questo video ci è costato 3 euro, la bellezza. Ringraziamo il... Il cinese di... No, va il... Il marocchino di... Il banchetto sul mercato. Il signore del banchetto sul mercato. Allora, vediamo. E se lo vedi, ciao! Sono molto lucido. Allora, appuiamo. Bello! Questa è questo qui? Non è doppio, vediamo. No. Ok. Hippon. Sì. Va bene. Lilligant. Bello. Ok. Elettro. No, questo non c'è, non c'è. Merchant. Merchant. Gardevoir. Gardevoir. Oh, Ethan. Bello. Bello, che noi ce l'abbiamo, vero. Hippon. Hippon. Glash. E... Dark Eye. Adesso vi facciamo vedere tutte le doppie. Allora, praticamente. Prima vi... Mia sorella vi farà vedere le doppie. Ce abbiamo. Ce abbiamo. Questo... No, questo è lì. Questo qui. Che ce l'abbiamo triplo. Credo, sì. Vabbè, triplo. Poi abbiamo... E le mettiamo insieme. Starmywix. Cioè, V. Scusate. Poi abbiamo Onion. Doppio. Abbiamo... Regi le... No, questi le cartelle. Vabbè, le cartelle normali non le facciamo vedere. Poi abbiamo... Mr. Rain di Galar. Cioè, Mr. Rhyme. No, non Mr. Rain, eh. Mr. Rhyme. Mr. Rhyme. Di Galar. E doppio. V. Poi abbiamo... Poi abbiamo... Garchomp. V. Falso. E poi le carte normali. Che sono queste qui. Allora. Comunque... Ve l'ho detto. Se volete le carte, scrivetecelo nei commenti. Oppure, se troviamo, dato che noi viviamo ad Albisola, se troviamo bambini che scambiano per false, potremmo dirvi le novità. Allora, non andate mai da questa bancarella. Vi dice tutto un euro e dà tipo le frizioni false. Da tutto falso. Cioè, guardate. Ditemi se questo pacchetto non è vero. Speriamo di... Allora, questo lo salutiamo. Questo, allora, è uno special video fake, eh, per il cinquantesimo del canale. Dimmi, cosa c'è? Hai bisogno di qualcosa? Le doppioni le abbiamo viste. Allora. E, giustamente, ce ne sono molte. Adesso, vediamo tutte queste, che sono le carte, che sono molte, non doppioni. Abbiamo un gradevole, bello, vicegreta. Poi abbiamo un etan, un garciop, poi abbiamo un matchup V. Lillicant V. E Calyrex Cavaliere Spettrale Alternative Art. V Alternative Art. Mr. Rhyme V. Poi abbiamo un Timezone V. Piastro. Poi abbiamo un Articuno di Gala V Alternative Art, che poi non so come sono i VF Art, però non si possono riconoscere. Poi abbiamo un Timezone V. Poi abbiamo un Timezone V, uno Stemmy V, un Darkrai V Astra, un Fram's Moth V Segreta. Poi abbiamo un Onion, allenatore fuori serie. Che c'è la rendoppio. Poi abbiamo Palchia. Un Calyrex Cavaliere Spettrale, sempre Alternative Art, ma V Max. Poi abbiamo queste carte pazzurde che... Poi abbiamo un'altra, 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 un'altra. Poi abbiamo un'altra, un'altra.